Ci sono anche cinque studenti di Ravanusa ed una studentessa di Canicattì tra le eccellenze italiane iscritte in un apposito albo tenuto dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca che ogni anno inserisce i bravissimi che escono dalla maturità con la votazione di Cento e Lode. Si tratta di Maria Chiara Canicattì, di due fratelli, Emanuele ed Ivan Capobianco, Carla Lauricella Rinotta, Michela Francesca Ninfosi e Carlo Molinari che si sono diplomati al liceo Giudici 7 a Livatino a conclusione dell'anno scolastico 2014-2015. Proprio nei giorni scorsi il Ministero ha fatto recapitare nelle abitazioni dei ragazzi i bonus da 450 euro a testa riservati ai diplomati con Cento e Lode e la relativa iscrizione. Siamo stati iscritti all'album nazionale delle eccellenze del MIUR, dice Francesca Ninfosi, assieme ad Emanuele Capobianco ed Ivan Capobianco. Tutti di Ravanusa sono usciti dalla classe quinta e del liceo scientifico. Carla Lauricella Rinotta, pure lei di Ravanusa, era iscritta al corso D dello scientifico. Carlo Molinari di Ravanusa frequentava le lezioni nel corso C. Infine, Maria Chiara Canicattì, di Canicattì, era iscritta nel corso A del liceo pedagogico. A distanza di un anno, Carla Lauricella Rinotta è iscritta all'Università Luis di Roma presso la Facoltà di Giurisprudenza. Michela Ninfosi ha scelto la Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università di Palermo. Maria Chiara Canicattì si è iscritta alla Facoltà di Scienze della Formazione all'Università Core di Enna. Ivan ed Emanuele Capobianco sono iscritti all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. Carlo Molinari frequenta anche lui Medicina e Chirurgia a Siena quando si dice che l'eccellenza è di casa nostra.